Siamo qui con Indovina la canzone Trap Edition americana Vi farò ascoltare alcune canzoni un secondo alla volta Chi si prenota per primo avrà 10 secondi per rispondere Se non la sa tocca a quell'altro altrimenti si andrà avanti Mettetevi le cuffie Prima canzone un secondo via Casper di Sbagliata Puoi rispondere Take off last memory 1 a 0 per Tommy Prima canzone due secondi via Prima canzone 5 secondi via No 0 Prima canzone 10 secondi via Niente niente 0 0 Niente artista Era last memory di Take off Cielo Seconda canzone un secondo Ehm Ho già sentito Provo Niente altre secondi No L'ho fatto io E' la mia canzone Vada Allora Praise the Lord Asap Rocky E? E? Eeeh Asap Ferg No Niente Puoi dirlo te Junior Se no andiamo avanti Asap Rocky E' tipo Drug Di No Che cosa di Allora diamo mezzo punto Per Tommaso Seconda canzone Due secondi Via Altro tempo Niente Seconda canzone 5 secondi Via Non mi viene 10 secondi Seconda canzone Via Niente Sono i Migos No Solo Travis Scott Era Praise the Lord Asap Rocky Terza canzone Un secondo Via XX Temptation Moonlight Finalmente 1 a 0 Per Ricky Mai sentita Mai sentita Dai con le moto Già Anche Ma metteva sempre il meno In classe Non c'è Non c'è E' vero Accorcia le distanze junior Due a uno Quarta canzone Un secondo Via Ho sentito Ice Ice Out Di Lil Pump E Two Change Allora Due punti per junior Contro uno e mezzo Di Tommaso Quarta canzone Due secondi Via Niente Quarta canzone Cinque secondi Via Non so la canzone I love it Kanye West Non so No Li pump c'è Però Non è Si è sentito Si è sentito Uuuuuh La provo Lil Pump E Lil Pump Il titolo No 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 perché L'aveva fatto uscire Niente No Era l'unico Che mi ricordo Era Ice Out Lil Pump E Choo Chains Ma si L'ho già sentito Si dai Famosissima Andoviata al primo secondo Questa cosa Se la sapete Andiamo con la quinta E ultima canzone Un secondo Via Quinta canzone Due secondi Via Quinta canzone Cinque secondi Via Devi iniziare a cantare Perché Passiamo No Era How about Death Dico Wow How about that Quevo No no Ho scelato io Ho scelato io Ho scelato io No aspetta Aspetta Ritma Ma Fai su Che Stai Io Lo sapevo Che era Quevo Sapevo che Quevo Su Ti Lo sapevo Che Dillo Che How about that Quevo Giusto Vince la sfida Junior Look at my Bitch Damn Bene Poniamo fine A Questo martirio Dobbiamo fare l'altro Anche due No Vince Riki 1-0 Bella E qua si è dotato il punto più basso di questo canale Abbiamo replicato Lorenzo nel primo di finale a calzone in due Sì ma non vale Grazie ragazzi per aver visto il video Ovviamente per i due fratelli il migliore sono io Sempre Non è sempre io In realtà non è vero l'ho lasciato vincere Perché Sono un po' pena Comunque se vi è piaciuto il video Seguite la pagina E mettete un like Grazie Io Direi che questa prova è andata molto bene Ci vediamo al prossimo video Ciao Grazie per essere arrivati fino alla fine di questo primo video della trap americana Noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video Hai se questo pare questo martirio Ciao 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 Ciao